Ciao, sono Lucello, noi abbiamo iniziato a contare quando ancora prima che arrivasse C'era rappresentata Diego, il nostro rappresentante, e ho sposato subito l'idea di questo self-service Era una cosa che pensavamo già da tanto tempo La cliente arriva, compra il prodotto, decide che tonalità di colore fare, tutto quanto Quando si è deciso il colore, noi facciamo l'applicazione, laviamo i capelli Gli applichiamo il colore, gli laviamo i capelli, gli mettiamo la crema E poi lei si può fare praticamente la piega da sola O scegliere di fare la piega da non rio Aver preso Tai ci ha dato la possibilità di dare molti più servizi alla nostra cliente Quindi un servizio classico, normale, tutto quanto Con un servizio anche molto rapido e veloce Dove lei si può fare la piega da sola In più abbiamo differenziato anche i prodotti Quindi i prodotti Tai diventano meno costosi O comunque hanno un loro settore E abbiamo anche un altro settore dove ci sono prodotti più costosi Quelli tradizionali che usano Fatto in questo modo il gruppo Tai Hanno fatto sì che la clientela è venuta e rimasta contenta Ed è ritornata a rifare il servizio E quindi sta continuando a fare anche il servizio self-service Oltre a fare altri servizi che ci sono all'interno del saluto